La solidarietà incontra l'inclusione sociale e lo fa grazie allo sport. In che modo? Attraverso la decima edizione di Vivere lo Sport Arezzo Abilia, manifestazione promossa da CONI e WISP di Arezzo. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato Paralimpico e con il patrocinio del Comune, della provincia, della Regione Toscana e della Prefettura. A fare da cornice all'evento sarà il Parco Pertini, che domenica 24 settembre ospiterà le numerose federazioni sportive che hanno aderito. Si parte alle 10 con la corsa podistica aperta a tutti, poi per l'intera giornata saranno attivi differenti focus su pallavolo, calcio, scherma, equitazione, alla presenza di operatori qualificati per l'integrazione della disabilità fisica e cognitiva in ambito sportivo. Nel pomeriggio alle 15 sarà la volta dei tornei di pallavolo e di calcio a 5, tutti a partecipazione mista con atleti normodotati e non, che scenderanno in campo per giocare e festeggiare lo sport, quello che vuole abbattere barriere, pregiudizi culturali e promuovere l'integrazione sociale delle persone con disabilità. Siamo arrivati a circa 26-27 federazioni che parteciperanno all'evento, c'è stata in questi 10 anni una crescita continua e ininterrotta da questo punto di vista. Infine spazio anche alla beneficenza. Ricavato di questa manifestazione andrà ad aiutare quelle che sono le cose del calcit e dello scudo. L'iniziativa è promossa attraverso il sostegno di Estra. Siamo veramente in linea con quella che è la nostra missione, quindi è per questo motivo che Estra è fortemente insieme alla manifestazione, che fra l'altro è importante perché ormai da molti anni viene svolta e quindi questa è una dimostrazione anche di sostenibilità, quindi non è un evento sporadico ma è qualcosa che continua nel tempo.